Less is more è un mantra del British Medical Journal, una delle più importanti riviste scientifiche al mondo e significa meno e meglio. Vogliamo capire che cosa significa, che cosa può significare questo esattamente nel campo della diagnosi precoce dei tumori e lo vogliamo fare con il Dottor Mario Clerico che è Presidente del CIPOMO, il collegio dei primari oncologi medici ospedalieri italiani, nonché primario di oncologia medica all'ospedale di Biella. Dottor Clerico, less is more, meno è meglio. Se parliamo di diagnosi dei tumori, da sempre diciamo che la diagnosi precoce è un'ottima cosa e sono convinto tuttora che lo sia, però talvolta un eccesso di diagnosi può portare delle conseguenze non buone. Mi puoi fare degli esempi per che la gente non sia confusa, perché continuiamo a rifare gli screening e io credo che facciamo bene, però c'è qualche caso in cui forse no. Intanto sono d'accordo nel fare gli screening, quindi non vorrei essere frainteso. In realtà noi abbiamo coltivato e siamo arrivati alla convinzione che prima è meglio è perché una volta si arrivava alla diagnosi così tardi per cui molto spesso i tumori non erano neanche più aggredibili. Adesso e quindi abbiamo detto mi raccomando attenzione facciamo precocemente degli accertamenti nel dubbio che. Ma in realtà la tecnologia adesso ci permette di andare a studiare così profondamente, così addentro agli organi e meccanismi di funzionamento, anche quando non ci sono sintomi, per cui scopriamo dei difetti che attribuiamo a possibile evoluzione a cancro, ma non abbiamo ancora capito se è vero o no. Per cui diamo nome cancro a certe alterazioni che si presentano in questo modo, però probabilmente non si muoveranno mai. Quindi l'avere detto facciamo tutti tutto, presto presto, tanto tanto, ci siamo accorti che non è bene perché abbiamo seminato ansi, abbiamo fatto interventi inutili, abbiamo creato menomazioni, problemi vari senza modificare le cose. L'esempio più eclatante è quello del PSA della prostata, cioè un esame semplicissimo, facilissimo, che dice se il PSA è alto vuol dire che deriva dalla prostata, andiamo a vedere bene la prostata e spesso se si va a vedere si trova un tumore della prostata. In realtà non c'è nessun progetto di screening che dice, chiama le persone a casa e dice viene a fare un PSA, mentre invece viene fatto per la mammografia, per la colonoscopia, per il pap test, che sono più impegnativi, più costosi, insomma, insomma, perché noi maschietti sopra i 50 anni non riceviamo la letterina a casa dicendo vieni a fare il PSA, perché nessun programma al mondo di screening ha dimostrato che trovarlo presto è utile. Anzi, siccome io trovo un tumore della prostata e poi a questo punto non so se starà lì per i prossimi 30 anni oppure no, sono in un'ansia tremenda dicendo io devo fare qualcosa. Da quando il PSA è stato scoperto il mondo è aumentato enormemente il numero di persone che hanno avuto la diagnosi, abbiamo operato molte persone che subiscono quindi l'impotenza, l'incontinenza, che sono due problemi grossi della conseguenza del trattamento del tumore della prostata, ma la mortalità non è cambiata tanto, quindi significa che se cerchiamo bene, troviamo tanto, facciamo tante cure, ma la mortalità non cambia, allora ci stiamo chiedendo se ha senso oppure no. Ecco, abbiamo fatto l'esempio del tumore della prostata che è il più eclatante, quindi in sostanza lei mi dice, trovo un tumorino della prostata piccolo piccolo, non so se evolverà, aspettiamo un attimo, ci sono studi che confermano che conviene trattarlo con una certa circospezione, che non vuol dire non trattarlo quando va trattato perché poi ci sono... C'è un tipo di atteggiamento che osserva e aspetta, che noi facciamo fatica ad accettare. Che però si sta affermando, ecco, però, ecco, giustamente lei ha detto all'inizio, io confermo, non vorrei che dessi un messaggio sbagliato per invece la diagnosi precoce di tumori, quelli che lei ha nominato, quello della mammella, quello del, per esempio, quello del colon, eccetera, per cui gli screening riteniamo siano utili, ci sono studi che invece confermano la loro utilità, studi solidi. Però gli screening sono una società che decide di chiamare i cittadini sani per ricordargli di fare un esame. Questo è il progetto di screening, invece dire faccio tanti esami per scoprire qualcosa non è la stessa cosa e non è utile. L'iniziativa personale dettata dall'ansia, ecco, volevo proprio distinguere questo, l'iniziativa dettata dall'ansia contro invece degli screening che nascono per un atteggiamento politico che però ha dietro le spalle studi solidi prima che questa decisione venga presa, che non viene presa alla leggera. Ecco, questo è importante dirlo. Il caso del PSA è un caso invece in cui l'ansia personale può portare a decisioni sbagliate, quindi fare il PSA perché ci sono dei sintomi e per fare un PSA prima dei 50 anni e fare un PSA prima dei 50 anni per sapere da dove si parte, ecco, questa è una cosa che mi consigliavano, uno, per dire io di solito, no, anche questo non lo farebbe. Se ci sono dei sintomi, ovviamente non è che si può negare il problema, quindi affrontiamo i sintomi di quel che sono, però nessuna società scientifica per il momento ha detto ragazzi fate il PSA perché vogliamo sapere, quindi non c'è nessuna evidenza che sia utile. Un altro esempio è il tumore della tiroide. I giapponesi dopo il tsunami hanno voluto approfondire quegli effetti potenziali del disastro nucleare e hanno scoperto un sacco di tumore della prostata, della tiroide e però altre società come la nostra, come gli francesi, gli inglesi che fanno spesso l'ecografia e trovano tanti tumori, ci stiamo chiedendo ma questi qui sono conseguenza del fatto del disastro di Fukushima o sono del fatto che stai andando a cercare e trovi quello che normalmente è molto frequente? Insomma, non è così facile. Allora, niente ansie eccessive, gli screening però facciamoli, su questo non ci devono essere dubbi e poi anche per altri tumori, diciamolo perché va ricordato, quello dello stomaco per esempio, faccio solo questo esempio, intervenire presto appena c'è un segnale fondamentale perché questo cambia la sopravvivenza, quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, però l'ansia inutile su certi tipi di tumori è da eliminare, giusto? Grazie dottore, arrivederci a tutti.